Era davvero così? Non era così pulito, furbacchiore. Non mi fa impazzire questo, far finta di essere tornati dove abbiamo cominciato. Io voglio sapere dove siamo. Dove stiamo andando. Signor Cooper, c'è tutta la famiglia riminita. La famiglia? Sì, sono tutti venuti a trovare la signora. È stata anche io sonno per quasi due anni. Mi hai detto che io amo l'agricoltura. Ero io, Marfe. Ero io il tuo fantasma. Sì, lo so. Ma non mi volevano credere. Pensavano che avessi fatto tutto da sola. Ma... Io sapevo chi era. Nessuno voleva credermi. Ma sapevo che saresti tornato. Come? Perché il mio papà me l'aveva promesso. Ora sono qui, Marfe. Sono qui. No. Nessun genitore dovrebbe veder morire il proprio figlio. Ho i miei ragazzi adesso qui. Tu devi andare. Dove? E' rimasta lassù. Attiva la base. Sola. In una galassia sconosciuta. Forse adesso... si prepara per un lungo sonno. alla luce del nostro nuovo sole. nella nostra nuova casa.